Il mister del Ponte d'Era si chiama Marco Masi, una partenza veramente non ipotizzabile, poi questo grande Ponte d'Era, questo grande cuore che sta uscendo? Sì, il cammino è lungo perché con la partenza che abbiamo avuto noi ci vuole tanto tempo per riassorbirla nella maniera adeguata. La partita di oggi credo sia una partita dove abbiamo fatto un tempo per uno, una traversa per uno, la solita oltretutto, quindi credo il risultato sia giusto. Due parole su questo derby a porte chiuse soprattutto con poca gente, l'anno scorso all'andata a Ponsaco è stata tutta un'altra cosa, grande folklore. Io credo che sia un'assurdità giocare queste partite, anche perché poi l'anno scorso di fatto non successe niente, quindi non vedo perché la gente non debba venire a vedere una partita che tra l'altro fa parte un po' della storia della Valdera. Mi sembra un'assurdità però c'è altre persone che decidono, più in alto di noi. Cosa ha detto ai suoi ragazzi al termine di questa partita? Che va bene, stiamo dando continuità, venivamo fuori da una buona prestazione, più che buona mercoledì scorso, anche dispendiosa dal punto di vista fisico, quindi aver dato continuità va bene, non è che noi siamo guariti, quindi ci vuole ancora tempo per guarire, quindi se troviamo continuità dei risultati va più che bene.